Eeeh, urca benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Andiamo a completare la missione di andare a configurare l'uplink alla stazione Sinapsi Eccolo qua il primo, uno dei tanti, perché volendo potete andare anche da un'altra parte qui vicino Eccolo qua tutto storto, come potete vedere vicino alla stazione Sinapsi ce ne sono uno qua, uno qua, oppure uno qua in fondo Dunque raga, decidete dove andare, configuriamolo, usa un kit di travestimento, poi posiziona progetti per armi alla stazione Sinapsi Dunque, vediamo un po', ah ce ne è uno proprio qua, proprio, alla grade, allora, usa kit di travestimento, eccolo qua Zacchete, uh, ci si è trasformati ragazzi, che figata, ce ne è uno sopra probabilmente, perché mi dice che c'è un coso Vediamo un po', paradigma a un piano, attenzione Lascia i progetti al laboratorio dello scienziato, presumo qua dentro dunque Ok, proviamo ragazzi, a vedere se qua dentro c'è qualcosa Non c'è niente però Allora, vediamo un po', ragazzi, perché Stai trattando, usa un kit di travestimento, poi posiziona progetti per armi alla stazione Sinapsi Scusa, qui ti dice che c'è qualcos'altro, non capisco cosa c'è Non c'è niente qua ragazzi, ho sbaglio Ma sono io per la ragazzi o qua non c'è niente Forse sono un po' più là Forse sono dentro là ragazzi, permette che sono dentro Ecco, dove c'è lo scienziato Lo scienziato è qui da qualche parte lo scienziato, ecco Lo scienziato dovrebbe essere lì, vediamo, vediamo, forse dobbiamo parlarci ragazzi, eh Forse dobbiamo parlarci, guardatevi un attimo che vi faccio sto medikit al volo E andiamo a vedere come risolvere sta missione Esatto, dovevamo proprio entrare qua ragazzi, vedete Esattamente in questa cosa qua, vedete Là, eravamo noi qui a sinistra Vedete, attac, andiamo qua e come potete vedere troviamo proprio posizione a progetti per armi Dunque andiamo a schisaccare e rieccoci qua Molto molto bene Easy, abbiamo finito tutti i incarichi di settimana 3 Ragazzi ci vediamo direttamente giovedì con l'incarichi di settimana 3 Normalmente E settimana prossima sempre qui è martedì alle ore 15 Belli carichi per altri carichi di riveliore Del ragazzone bacione grandissimo Belli comunque questi carichi, sono particolari Non male, fatemi sapere la vostra Del ragazzone bacione